Chiedo ufficialmente al Commissario del Lato Pierluigi Caputi, al Direttore Generale e al Collegio dei Revisori dei Conti dell'ACA di verificare la regolarità di quanto avvenuto nel corso dell'Assemblea dei Soci del 28 ottobre scorso. Una richiesta legittima, visto che i punti all'ordine del giorno relativi alla revoca del Presidente ACA e al cambio di governance dell'azienda erano fissati per la seduta del 22 novembre. Lo ha detto Ezio Di Cristoforo in merito al controllo richiesto al Commissario del Lato Pierluigi Caputi, al Direttore Generale e al Collegio dei Revisori dei Conti dell'ACA. La richiesta di revoca da parte dei sindaci soci, a continuato Di Cristoforo, è senza dubbio legittima e sacrosanta, ma vanno comunque rispettati i tempi e le modalità previste dal regolamento. Pertanto chiedo al Commissario Caputi, organo preposto a far rispettare la regolarità, basti vedere i dirigenti degli ufficiato, di verificare la regolarità della prassi adottata dall'Assemblea del 28 ottobre, dove tra l'altro non è stato consentito di intervenire neppure a un professore che poteva dare il proprio contributo professionale all'incontro. Un divieto portato avanti soprattutto dal sindaco di Francavilla, forse dettato da un gesto di nervosismo che rivela semplicemente la vera natura di Luciani e dei suoi amici.